Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Siamo tornati qua in un nuovo video Sicuramente siete rimasti colpiti dal titolo Perché in realtà è la verità Giusto Simone? No, perché lui fa finta che là non c'è nessuno Ma se vede un mezzetto armadio Dimagrito, vestito dei fiori Dici, chissà il cazzo è là dietro È scemo, regà Signori, come avete visto dal titolo Domani, questo sabato praticamente Sul mio canale Ci sarà la live di Fortnite Lo so che sabato è che la gente Ha anche una vita sociale Però domenica Io vado a Orvieto Questo lo dovreste sapere Al mio firmagopie Trovate il video appunto del firmagopie nel canale Giocherò con gli sponsor sui server privati Quindi Io in questo momento ho 700 sponsor Significa che se tutti quanti Fossero online sabato a giocare con me In 7 partite riesco a giocare con tutti e 700 Se ci pensi È così Se ci pensi è così Quindi ragazzi Chi non ha fatto la sponsor È un buon momento per farlo Dato che Mi sto accordando con quello di Epic Games E a quanto pare Una volta a settimana Mi lascia i server dedicati Per giocare solo con gli sponsor E O sabato O domenica Posso giocare con tutti quanti Quindi ragazzi Stiamo Cercando di trovare un comune accordo Per non menasse Fra me e quelli di Epic Games Quindi signori Domani vi aspetto sul mio canale Giocherò solo con gli sponsor La password per appunto Accedere Nelle lobby La manderò solamente agli sponsor Tramite Sul mio canale C'è Il tassino community E lì Farò dei post Che possono vedere solo gli sponsor Poi comunque Se volete diventare sponsor Vi spiego tutto quanto Nella 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 live Signori Vi aspetto domani Domani sera Alle 20 e 30 In live Dove possono giocare Solamente gli sponsor In lobby gigantesche Anche se Purtroppo Non tutti gli sponsor Saranno online Quindi significa che Probabilmente ci saranno lobby Da 50 60 persone Quindi signori Pollicione in su Vi aspetto domani Joker tu ci sarai Sei sponsor Ah sei sponsor Signori Ci vediamo domani Ciao ciao